Come disattivare la segnalazione di filtro sporco su un Galaxy 3005 tramite display? Entrando nel menu principale scendiamo sull'impostazione setup. A questo punto andiamo sotto system diamo sempre l'enter. Una volta entrati scenderemo sotto la segnalazione di dust filter. Premendo enter andremo a impostarli l'off per disabilitare. Prendiamo enter. A questo punto premendo ESC torneremo al menu principale.